ragazzi grazie a tutti ieri mi sono divertito da fabio è stato veramente piacevole essere stato invitato da lui iscriviamoci al canale è tutto gratis fate iscrivere i vostri amici interisti al canale degli esonerati inoltrate il link nei vostri del canale per fare iscrivere i vostri amici nei vostri gruppi whatsapp telegram nelle vostre chat private all'amante a chiunque perché a breve ci divertiremo qui si parla spessamente di calcio ma abbiamo affrontato il discorso del passaggio proprietà che porteremo fino in fondo su catar airways catar airways non sarà mai sponsor di stadio sponsor dello stadio indipendentemente dalla ristrutturazione di san siro da un nuovo stadio per me l'inter rimango della stessa idea farà di tutto per rimanere a san siro ma catar airways non sarà sponsor stadio questo non ho la certezza anche perché noi siamo stati i primi a fare il nome di catar airways catar airways era un nome che non avevano fatto nei giornali nelle tv nessuno quindi se te lo dico se permetti è perché lo so ragazzi guardiamo il lato positivo della cosa la rabbia sta sbollendo no abbiamo visto i soliti errori tutto quello che vi pare ma davanti abbiamo due gioielli cioè la tula ad oggi bisogna riconoscere a questi ragazzi che fino ad oggi sul campo ci hanno fatto divertire la tula ad oggi è la miglior coppa coppia di attaccanti d'europa l'inter ha il miglior attacco della serie a per distacco a cinque sei gol dal secondo miglior attacco l'inter quindi i problemi chi dice manca un nove dovrebbe guardare secondo me i artoni animati manca è normale manca un nome mancano due attaccanti non ne manca uno perché per tre competizioni dovresti avere un roster di quattro minimo cinque attaccanti noi ne abbiamo due gli altri due sono delle incognite turam turam lo sapete io c'ho sempre riduto un calciatore fantastico che abbina all'intelligenza tattica abbina la tecnica ehm eh assomiglia molto a a geco per intelligenza tattica turam poi più veloce e più tecnico quando hai turam in campo ti fa guadagnare sempre due tempi di gioco perché uno gioca di prima in velocità in velocità riesce a giocare di prima fa tantissimi assist ha già fatto più assist di gioco cioè ha addirittura ha fatto un record turam di assist nel campionato italiano ma di cosa vogliamo ragionare ragazzi ticus deve migliorare solamente in un paio di cose spesso si fa trovare troppo in fuorigioco deve imparare a farsi trovare meno in fuorigioco e a volte si concede quel dribbling di troppo ecco lui deve affinare ancora queste due tre cosine oltre a diventare ancora più cattivo sotto porta ragazzi ma se turam fosse già cattivissimo sotto porta sarebbe un giocatore da 200 milioni parliamoci sinceramente ragazzo che ha l'umiltà alla voglia e alla base per migliorare quindi il problema non è che c'è ai due attaccanti fenomenali è la miglior coppia d'Europa assist goal quindi il problema è chi c'è dietro di loro il problema è che dietro di loro c'è il vuoto a mio avviso ripeto a mio avviso come l'anno scorso sono state fatte delle scelte sbagliate in termini di mercato davanti come l'anno scorso fu sbagliato a riprendere Lukaku secondo me quest'anno l'Inter ha sbagliato a prendere Arnautovic e Sanchez anche perché a 12 milioni c'era Rettegui si poteva fare qualche potevi prendere un Morata 15-16 c'era l'ingaggio alto non poteva accedere al decreto crescita lo spagnolo tutto quello che vi pare però se te prendevi un terzo attaccante come Morata il quarto potevi tenere più esposito e risparmiare sull'ingaggio mentre hai Arnautovic e Sanchez che hanno due ingaggianti molto semplici non serve un matematico per capirlo il problema è che soprattutto Arnautovic è un giocatore che ha tantissimi problemi fisici ha un fisico importante è un calciatore che ha bisogno di stare in campo un po' come le ravieri per intendersi ragazzi il giocatore l'anno scorso è stato fermo sei mesi che aveva le stampelle fino a giugno 2023 Arnautovic si è allenato pochissimo negli ultimi due anni ha avuto problemi con Tiago Motta perché Tiago Motta preferisce avere solo un attaccante in area e il resto tutti gli attaccanti di movimento io Arnautovic lo avrei lasciato lì te lo dicevo da prima che arrivasse e te lo dico anche ora poi è normale lo so anch'io che Arnautovic se gioca cinque sei gol te li fa e che ti può essere utile ma chiunque può essere utile ad oggi per far respirare quei due ragazzi davanti che stanno dando il 300 per cento e io gli devo fare i complimenti a Turam e a Lautaro Martinez gli voglio fare complimenti perché mi hanno fatto divertire mi fanno divertire perché sono forti sono belli da vedere due ragazzi si stimano che si trovano che si capiscono non è facile se poi parliamo del ballerino di Correa che anche a Marsiglia attenzione perché forse ce lo rimandano indietro anche se c'è la clausola che loro lo devono riscattare se vanno in Champions ma con il ballerino quando c'è di mezzo lui tutto è possibile ricordatelo Sanchez ormai sì un giocatore tecnico brevilinio ma Sanchez non ha più la reattività di un tempo capito è è un giocatore di confusione ormai è un giocatore dell'ultima mezz'ora cioè non ci puoi fare più di tanto affidamento cioè questi sono giocatori Sanchez Sarnatovic che è soprattutto Sanchez che non ti reggono 90 minuti o che non ti reggono due tre partite in dieci giorni per quello quei due ragazzi davanti non hanno sostituti e sono stati spremuti come dei limoni vedi Turam è comunque Turam è un giocatore che durante la partita si spende molto cioè corre tantissimo lo stesso Lautaro Lautaro ha avuto una partenza shock quest'anno come non mai grazie anche a Turam soprattutto grazie anche alla fase difensiva e fa Turam grazie al lavoro e fa Turam oltre gli assist che gli fa perché anche l'ultimo gol di Lautaro è Turam che gli sistema la palla per tirare ragazzi ma di cosa vogliamo ragionare tra l'altro Sanchez a differenza di tre quattro anni fa per rendere di più visto lo devi mettere dietro le punte non ha più il passo per fare l'attaccante come successe in Spagna con il Real Saragossa lui dietro le due punte riusciva a fare qualche cosina quindi non è più nemmeno una punta pura secondo me non ha più quello scatto non ha più capito non ha più quella reattività Arnautovic è un giocatore che comunque lo puoi usare per gli inserimenti dei centromampisti ma è un giocatore che ti fa da boa non è velocissimo non è mai stato un bomber Arnautovic penso non abbia mai fatto 15 gol in Serie A per quello ti dico concludendo il video e rinnovando cosa rinnovando il mio appello iscrivetevi al canale e attivate la campanellina ti dico che secondo me in attacco sono state sbagliate le scelte come l'anno scorso a gennaio già si parla di sostituti già si parla di centro avanti perché l'inter secondo me si è accorta che su quei due puoi fare affidamento fino a un certo punto ma mi verrebbe da dire è il segreto di Pulcinella lo sapevi da prima cioè non puoi fare due scommesse in attacco io te ne concedo una ma non puoi fare due scommesse eh con una con un allenatore che schiera sempre due punte cioè è troppo rischioso purtroppo ad oggi ragazzi Arnautovic sta accelerando occhio a accelerare rientra con calma Arnautovic perché non sei più ragazzino c'hai 35 anni poi è normale se riesci a far se riesci a far rifiatare quei ragazzi tutto di guadagnato però ragazzi ad oggi qui non c'è un attaccante in grado di far rifiatare quei due o per un motivo o per un altro capisci che ti voglio dire però complimenti alla Tula complimenti a questi due ragazzi miglior attacco del campionato miglior coppia d'Europa complimenti ragazzi bravi continuate così poi spenando di sistemare le altre cose e purtroppo eh abbiamo visto nelle ultime partite soprattutto Sassuolo e Bologna ciao e ciao a Vita